Femme Tu sei la malafemme Chiamalo, chiamalo Peppe Laurato e Rosaria Borrelli per l'associazione Voglio il Massimo Eccoli Ciao Massimo Vieni Sono spariti i microfoni Ne abbiamo fatti fuori tre Tieni, se vuole buono No, no, adesso arrivano Eccoli qua, eccoli qua Allora, questo è per Peppe Buonasera, buonasera a tutti Una delle cose più belle di questa scaletta È che dopo un nutrizionista salgo io È stato un caso, è stato un caso Quindi, proprio per segnalare il fallimento Che sia la serata proprio giusto nutrizionista Un applauso, è possibile farlo a nutrizionista Allora, noi siamo qua in veste dell'associazione Massimo Borrelli Voglio il Massimo Ollussio Ringrazio sempre l'amica Barbara Cariere Che conosciamo da quegli anni indietro Fatti all'Arena dei Pini A Beadomizia Non lo diciamo Non vogliamo sapere Ieri, Sinofneca Iniziano a contare le rughe che abbiamo Vabbè, però intanto all'Arena dei Pini Quest'anno è venuto Sono venuti gli 883 Quindi ne ha fatto di strada dopo di noi Sì, sì, sì Siamo stati pionieri dell'Arena dei Pini Siamo qua perché Volevamo presentare un evento Che sarà tra una settimana Il 14 settembre Al cortile del Maschio Angioino È un'occasione per dire che Nonostante ciò il Covid Ha fermato un pochettino tutte queste manifestazioni Noi come associazione Massimo Borrelli Perché è un'associazione che si è formata A cinque anni dalla dipartita di Massimo A causa di un cancro al pancreas Sono quattro anni che vive l'associazione Noi ci siamo ancora E facciamo una rimpatriata Con tutti gli amici dell'associazione Che ha partecipato ai nostri spettacoli Al Maschio Angioino Invitiamo anche Ugo Lì c'è un piccolo bo Assolutamente Ugo Vieni al Maschio Angioino Per l'associazione Ugo e la signora ci fa enormemente piacere Vieni, 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 vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni Ugo Ci facciamo una foto insieme Vieni Vieni Ugo Vieni Ugo A centro ci facciamo una foto insieme Perché così Senza lacrime Però Io ti aspetto a te Alla tua signora Ello 14 Che è martedì sera Al Maschio Angioino Inizio alle 20 e 30 Lì c'è un box Il box dell'associazione Che ringraziamo Barbara Che ci permette sempre Al premio Malafemmera Di sistemare il nostro box C'è la vendita anche di billet Il costo simbolico di 15 euro Ci sarà uno show Con tutti gli amici Facciamo bene E adesso mi faccio la foto Se permettete E grazie E perdonatemi per le chiacchie Grazie Grazie E ovviamente a Rosaria Grazie davvero Questo è per Massimo Grazie Direi proprio di sì Grazie Buonasera a tutti Buon proseguimento Grazie Allora Grazie 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 a tutti.